I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Battipaia hanno dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali emessa dal GIP, il Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura e la Repubblica nei confronti di sette soggetti di nazionalità indiana incensurati e destinatari della misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione alla modalità di controllo del braccialetto elettronico indagati a vario titolo per i reati di tentata e sorsione, atti persecutori, rapina, violenza privata, lesioni personali aggravate, porto abusivo di oggetti atti ad offendere tutti in concorso, gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati in relazione a diverse ipotesi di reato commesse in danno di un loro connazionale, giovane imprenditore titolare di diversi saloni di barbiere, siti a Battipaia e in altre città italiane che sarebbe stato più volte avvicinato e minacciato a cui sarebbe stato richiesto del denaro in cambio della protezione che gli indagati avrebbero garantito in favore del suo negozio a Battipaia. La vittima, rifiutata le numerose richieste estorsive perpetrate da settembre 2022 fino a febbraio 2024, sarebbe stata sottoposta a reiterate condotte minatorie, vessatorie e violente e per l'effetto delle stesse costretto a cambiare le proprie abitudini di vita. Gli indagati sono ritenuti inoltre gravemente indiziati a vario titolo di ulteriori ipotesi di reato quali rapina aggravata, violenza privata e lesioni personali aggravate per aver messo in atto condotte violente ed intimidatorie anche in danno di altri due connazionali vicini al titolare dei negozi. Uno di questi lo scorso 4 maggio sarebbe stato rapinato del proprio zaino in via Roma a Battipaia, mentre l'altro lo scorso 4 dicembre 2023 sarebbe stato aggredito e ferito con una spranga di ferro. Gli indagati nei mesi scorsi avrebbero letteralmente perseguitato la vittima e le persone a lui vicine al fine di determinare l'isolamento e per indurla cedere alle richieste di denaro minacciando anche ritorsioni trasversali nei confronti dei suoi familiari residenti in India.